E' scomparso questa notte a 74 anni il capitano Giacinto Clarizia, storico esponente della Polizia Municipale di Battipaglia. Entrato nei caschi bianchi come vigile semplice, Clarizia ha compiuto tutta la trafila fino a diventare capitano. Amato ed apprezzato da tutti i battipagliesi, va scritto a lui il piano viabilità che negli anni 80 ha ridisegnato l'assetto viario della città di Battipaglia e che da allora non è stato modificato. I funerali si terranno domattina alle ore 9.30 presso la chiesa Santa Maria della Speranza di Battipaglia.